Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. Via libera definitivo dalla Regione alla graduatoria riguardante gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche pugliesi, con soluzioni tecnologiche avanzate e innovative che consentano un sensibile abbattimento dei consumi. Con la determina assunta nei giorni scorsi dalla dirigente della sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione, dottoressa Carmela Iadaresta, infatti, si è concluso un articolato procedimento amministrativo che ha consentito ora di sbloccare risorse per complessivi 117 milioni e 294 mila euro finalizzati a realizzare progetti e investimenti su immobili e strutture di proprietà pubblica allo scopo di consentire una graduale transizione verso edifici in grado di ridurre considerevolmente i consumi energetici con l'obiettivo di giungere a immobili a consumo zero. Grazie agli oltre 117 milioni disponibili per questa misura sono stati finanziati complessivamente 101 interventi proposti da comuni, università, agenzie regionali e altri soggetti pubblici. E conclude così Borracino, si tratta del compimento di un percorso certamente complesso, vista la consistenza delle risorse messe in campo e la delicatezza della materia, che ha dovuto scontare anche alcuni ritardi dovuti all'insorgere di alcuni contenziosi, ma sono orgoglioso di poter dire che con questa misura la Regione Puglia fa un enorme passo in avanti sull'efficientamento energetico, divenendo sostanzialmente punto di riferimento per l'intero Paese su un tema così importante e di scottante attualità.